Barbarano Romano è una delle 15 località dove transiterà la Gran Fondo dell'Etruria Meridionale, competizione ciclo amatoriale che vedrà questo splendido paese della tuscia protagonista. Bellezze e storia con il parco di Marturanum, un vero gioiello naturalistico di cui ne parla il sindaco Rinaldo Marchesi. Dal punto di vista sportivo è una bella iniziativa e poi loro cercano di valorizzare i nostri territori. Credo che il nostro paese abbia dal punto di vista sia ambientale che archeologico che architettonico parecchie località da far visitare. Nel nostro territorio insiste un parco regionale Marturanum dal 1984 dove è presente una delle più importanti necropoli rupestre del periodo etrusco che va dal X secolo a.C. fino al III secolo a.C. quindi prende tutta una fascia di circa sette secoli e dove sono presenti sepolture di parecchie tipologie.